24 anni da festeggiare Michele con la vittoria dello Scudetto. Michele Fedrizzi, 24enne, campione d'Italia. Se dovessi mettere un biglietto da visita sul tavolo di qualcuno adesso potresti dire così. Sì, sicuramente una bella soddisfazione finire la stagione così. Ho stato fortunato a compiere gli anni appena dopo la stagione così non ho dovuto portare le paste agli altri ragazzi, mi odieranno un po' per questo, ma va bene così. C'è un motivo in più per festeggiare, no? Sì, sicuramente. È stata una cosa inaspettata. Penso questo Scudetto un po' per tutti. Sapevamo di essere una squadra che poteva ambire in alto, ma sicuramente non così in alto. La tua stagione come la definiresti? Guardandoti da fuori direi che sei cresciuto molto, soprattutto in seconda linea. In attacco le tue doti si conoscevano, erano già note, però in seconda linea hai fatto forse qualcosa in più di quello che ci si aspettava. Sì, è stata una stagione particolare per me. Sono entrato spesso, volentieri, al posto di Mattei per rinforzare la ricezione, ruolo fondamentale che sicuramente non era nei miei favoriti, diciamo, negli ultimi anni, ma penso che questo mi abbia dato modo di confrontarmi meglio con questo tipo di fondamentale, anche in punteggi magari un po' delicati, quindi sono contento di aver avuto questa possibilità. Era la tua terza stagione in Serie 1 con 39, la seconda in cui avevi Radostin Stoic dopo quella del 2009-2010. Ecco, ritrovarlo, che effetto ti ha fatto e soprattutto se l'hai trovato cambiato o se sei cambiato tu rispetto ad allora? Sì, sinceramente forse si è un po' addolcito, diciamo, addolcito un po' i suoi modi rispetto a come me lo ricordavo quell'anno. Forse quell'anno era ancora più giovane di quanto fosse adesso, quindi come era più duro a prescindere. Quindi forse per questo quest'anno mi è sembrato più tranquillo. Però sicuramente un grande allenatore, ha grandi progetti, lui ha sempre voluto squadre con grandi progetti, quindi quando quest'anno ho saputo che sarei rimasto a Trento, all'inizio dell'anno ho saputo che sarei rimasto a Trento, ero sicuramente contento. Ultime due domande, la prima più semplice, non ti chiediamo del futuro della prossima stagione, ti chiediamo però durante quest'estate cosa farai per te, c'è possibilità di rivestire la maglia azzurra? Sì, già lunedì andrò a Roma con il gruppo dei giochi olimpici europei e andremo a Baku verso metà giugno, quindi vediamo cosa riusciremo a combinare. Dopo non sono nella lista della World League, quindi tutto l'uglio sarà per me a vacanza e vediamo se poi rientrerò nelle convocazioni di agosto per europei, World Cup e quanto ci sarà. Allora l'augurio che le tue vacanze si debbano interrompere presto? Sì, purtroppo mi viene da dire sì, quindi non è un purtroppo, è un vediamo, apprenderò quello che arriverà, se sarà vacanza mi rilasserò, se sarà allenamento sarò orgoglioso di essere stato convocato. Con chi passerai la sera del tuo compleanno e a chi dedichi lo scudetto? Le due domande possono essere strettamente collegate se la risposta è la stessa. Con chi passerò il compleanno? Ma a casa con la mia ragazza dobbiamo finire di traslocare, liberare l'appartamento perché appunto domani ci trasferiamo e lunedì appunto dovrò essere già impegnato a Roma, quindi devo liberare l'appartamento e la seconda domanda non me la ricordo più. La dedica per lo scudetto, anche se cerchi di evitarla accuratamente. La dedica per lo scudetto? Beh, penso sicuramente è tutta la squadra che si è impegnata per raggiungerlo, insomma, ci siamo fatti questo regalo. Buona estate. Grazie.